musica 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 lo che facciamo è mettere questa come se vede per attraverare la altra per tirare il nostro rodatore e per engancharla hermosa filapia blanca con questa la inganniamo come se vede e poi con il nostro rodatore la inganniamo su fila sarà disposta a vediamo che lo che si sta mettendo al nido o a la casa è lente mi gente la inganniamo mi gente eccellente la fila blanca utilizziamo questa come se o e poi con il nostro rodatore la inganniamo sta dando una hermosa pelea e poi procediamo a sacarla vediamo mi gente hermosa fila blanca vediamo un po' vediamo un po' un po' stiamo attrayendo, per che la osservate anche, sono tilapia blanca, di molto buono guarda la mia gente, sono hermosa tilapia blanca io penso che era la tilapia confundiamo questa hermosa tortuga con un pescado questa è un pescado antipro, non è una tortuga questa è una tortuga questa è una tortuga sono una tortuga una tortuga una tortuga No la lastimamos. La brava. Vamos a saltarla. Menos mal, no la lastimamos. Uy, la vieno. Se va a la cultura. Bueno, mi gente, así termina la pesquisa del día de hoy. Seis filapias blancas. Aproximada, después le voy a decir media cada una. Una pesquisa. Están veras claras. B1,2,3,4,4,5. Adiós, llegales, 23,6. Juan C.